Nicola J.C. Reyes . Questo è il battito del cuore del Bobbie of Film Festival. Naturalmente, ci stiamo avvicinando alla fine di questo appuntamento e questa sera, lo sapevate visto che ne abbiamo parlato due sere fa, continuiamo a scoprire i vari punti di vista esterni alla vicenda tragedia di Aldo Moro. Stasera abbiamo degli altri ospiti proprio perché compariranno in modo più definito sullo schermo nel terzo e quarto episodio, terza e quarta installazione se volete, terzo o quarto film, come sempre come tutte le sere finita la proiezione, poi converseremo con gli ospiti, non è che mi disturbi il rumoreggiare in modo più assoluto, però soprattutto non tanto nei miei confronti ma nei confronti dei nostri ospiti che vi presento immediatamente, questo è un saluto quindi non ci dilungheremo in anticipazioni o in conversazioni. Io comincerei chiamando subito Daniela Marra, prego Daniela, Fabrizio Gifuni, Gabriel Montesi e Fausto Russo Alessi che abbiamo già incontrato l'altra sera. Questo applauso è molto bello perché naturalmente alcuni degli esperimenti di spettatori hanno già visto, però non tutti, e quindi è un applauso sulla fiducia su quello che stanno per vedere e una conferma su quello che avete visto. Fabrizio ti do così l'impegno del saluto iniziale in cui uno non sa mai bene cosa dire ma tu troverai le parole giuste. Allora buonasera, buonasera a tutti. No, dico solo che sono molto molto felice e anche emozionato di essere arrivato a Bobbio dopo tanti anni di occasioni mancate in cui Marco mi aveva invitato per altri film e io stavo lavorando ma tutto ha un suo percorso e un suo compimento quindi era destino di dover arrivare a Bobbio che come ognuno di voi sa è il centro del mondo in occasione di esterno notte. Questa cosa io l'ho sentita per la prima volta molto tempo prima di conoscere Marco Bellocchio perché avevo un amico da ragazzo che veniva tutte le stati a Bobbio e continuava a dirmi Bobbio è il centro del mondo e io questa cosa non me la sono mai più dimenticata. Poi quando ho incontrato Marco e ho iniziato a conoscere tutta la famiglia Bellocchio ho capito che non era mitomania ma c'era una solida base di realtà. Quindi non la faccio troppo lunga ci vediamo dopo per parlare per chiacchierare un po' di questa opera grandiosa di questo immenso regista e grazie per l'ospitalità. Allora vi invito, naturalmente invito gli ospiti che ho presentato prima della proiezione quindi Fabrizio, Daniela, Gabriele, Fausto. Allora lo schema delle conversazioni ormai l'ho conoscente a memoria quindi non lo ripeto nel modo nel modo più assoluto con Fausto che era con noi anche la sera in cui c'erano Pier Giorgio Bellocchio, Simone Gattoni per la produzione e poi naturalmente c'era Francesca Calbelli. Abbiamo cominciato a muoverci dentro questo territorio se volete, questo magma in cui dati storici, questo era stato raccontato, lo dico soltanto per chi non ci fosse stato l'altra sera, in cui dati storici si mescolano con grande abilità a momenti di immaginazione, di invenzione, di come in questo caso una scena finale di sogno, forse anche un sogno ad occhi aperti o un incubo nel caso della chiusura del secondo episodio. Quindi io riprenderei se siete d'accordo, poi le vostre domande naturalmente si possono muovere laddove vi interessa, proprio sul lavoro degli attori, perché abbiamo qui, e lo dico non perché sono qua, ho avuto modo di dirlo in tutt'altro contesto, loro non l'hanno sentito, devo dire poche volte si vede una serie, un film in cui tutti, tutti gli interpreti sono di un livello davvero, secondo me, eccezionale. Finisco subito con i complimenti naturalmente. Fabrizio, ho visto, poi torniamo anche con Fausto, Fausto ci ha raccontato come, anche i suggerimenti che Bellocchio gli ha dato per avvicinarsi dentro quel personaggio così complesso, a un certo punto hai citato Shakespeareano, non a caso, e quindi, e avete visto già nel primo episodio, poi continuiamo a rivederlo, Fabrizio Gifuni nella parte di Aldo Moro, è un morologo, possiamo definirti così, no? Tu ti definisci un po' così, perché poi tu ci hai lavorato anche molto a teatro, e quindi arrivare su questo set, non solo per l'interpretazione che non è un'imitazione di Moro, no? Questo è assolutamente evidente, no? Moro, grazie a questa interpretazione, vive in modo immaginario sullo schermo. Lo Fabrizio partirebbe proprio da questo, da come e quanto, sì, abbiamo un solo microfono che poi magari vi passate. Il lavoro che tu hai fatto per il teatro, che continui a fare, poi è confluito, ti ha aiutato, dialogando ovviamente con Marco Bellocchio, con una sceneggiatura che tutti quanti mi dicono, no? Erano delle sceneggiature davvero importanti, notevoli, ricche e sfaccettate. Appunto, questo punto di contatto che si è creato, e credo che per te non sia finita qui, insomma, rispetto al lavoro su Moro. No, beh, ora io penso che con questo ho dato abbastanza, poi diciamo adesso bisogna anche distaccarsi un pochino dai personaggi, soprattutto se si è avuto la casualità, la fatalità, non saprei come definirla, ma insomma sicuramente non capita tante volte nella vita di un interprete, di un'attrice, di un attore, di poter incontrare lo stesso personaggio più volte nel corso degli anni in diversi territori, cioè lavorandoci con strumenti differenti. è iniziata più di dieci anni fa con Marco Tullio Giordana, con un Moro più giovane di dieci anni, anche io ero un attore più giovane di dieci anni, era il Moro, diciamo, di Piazza Fontana del 69, è proseguita nel 2018 con questo lungo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro, che ha dato vita poi a uno spettacolo, prima una serata che ha inaugurato il Salone del Libro il 9 maggio del 2018 e poi a uno spettacolo, uno studio, io lo chiamo un esperimento teatrale che faccio col pubblico su questi materiali e tutto questo è incredibilmente approdato a questo progetto, questo grande progetto su cui Marco si era messo all'opera più o meno nello stesso periodo, più o meno intorno al 2018, cioè quando c'è stato il quarantennale. Io non lo sapevo, lui non sapeva che io stavo lavorando allo spettacolo e ci siamo incontrati qualche anno dopo quando lui era in preparazione e io avevo debuttato con lo spettacolo, Marco è venuto a vedere la seconda replica assoluta dello spettacolo e poi ci siamo ritrovati, Marco mi ha proposto di affrontare questo personaggio di nuovo insieme in questo grande progetto, quindi questa è sicuramente una cosa unica. Quanto tutto il lavoro fatto in teatro mi sia servito è sicuramente tantissimo, nel senso che Marco ha detto spesso che Esterno Notte è una sorta di controcampo del suo film di vent'anni prima, di Buongiorno Notte, qui vediamo tutto quello che si muove all'esterno della prigione di Moro e quando Buongiorno Notte invece era molto concentrato sulla prigione e su quello che succedeva all'interno. Ecco, il mio spettacolo è sicuramente una sorta di controcampo, dal mio punto di vista, di Esterno Notte, cioè ognuno dei due ha avuto un controcampo, il mio era proprio tutto questo lavoro su questo flusso inarrestabile di parole che Moro mette in campo nei 55 giorni della prigionia perché Moro l'unica cosa che gli viene concessa è scrivere. Moro scrive su dei fogli a quadretti, a mano e a partire dal decimo giorno, perché più o meno gli ci vollero dieci giorni per riprendersi da una rottura o da un'incrinatura della costola che probabilmente gli fu provocata quando lo misero nella cassa, inizia a scrivere e scrive sempre, di giorno, di notte, a qualsiasi ora, scrive una quantità di lettere e di materiali di cui noi verremo a conoscenza soltanto dopo la caduta del muro di Berlino, in quei famosi due ritrovamenti del covo di via Montenevoso, un primo ritrovamento nell'ottobre del 78 in cui fanno ritrovare dei brandelli di lettere, e di memoriale in forma di dattilo scritti, fotocopie di dattilo scritti, quindi in nessun modo ascrivibili con certezza Moro e che servirono anzi per dire vedete Moro non ha mai scritto nulla, queste sono le veline che i brigatisti scrivevano e poi lo obbligavano a ricopiare perché bisognava continuare a diffondere nell'opinione pubblica l'idea che Moro non fosse in grado di intendere e di volere durante i 55 giorni. Questa poi lo abbiamo saputo per testimonianza dello stesso Pichnick, che è un personaggio che Marco mette in campo, cioè quest'uomo che viene dai servizi americani e che partecipa a tutte le fasi del comitato messo in piedi da Cossiga e che sta lì soprattutto per mettere, come prima cosa, in atto questa tecnica, che è una tecnica di controguerriglia, cioè quando si teme che il prigioniero possa rivelare dei segreti di Stato nazionali e internazionali si deprezza il valore del prigioniero e quindi si fa credere all'opinione pubblica che il prigioniero sia impazzito, sia drogato, sia vittima della sindrome di Stoccolma in modo che se dovessero uscire, nel caso in cui dovessero uscire segreti e non usciranno durante questi 55 giorni, che è l'altra cosa invece che riguarda gli uomini e le donne delle Brigate Rosse, che avevano in mano un materiale incredibile, esplosivo, che avrebbe fatto crollare un intero paese, un'intera classe politica con un largo anticipo rispetto agli anni 90, quando ci sarà il crollo della Prima Repubblica, le Brigate Rosse decideranno di non diffondere nulla, cioè di non rivelare nulla di quanto Moro andava dicendo. Ecco, tutto questo materiale per concludere mi è servito moltissimo, perché naturalmente è un materiale che ha attraversato il mio corpo, la mia testa, la mia pancia, in un rituale collettivo che è stato fatto tante sere, in tanti teatri, con tanti pubblici, in tante città, in cui si è condiviso questo materiale. Naturalmente il cinema ha un altro linguaggio, quindi la prima cosa che ci siamo detti con Marco, che è venuto a vedere lo spettacolo, adesso noi dobbiamo fare un'altra cosa, si deve lavorare in un altro modo, e allora abbiamo iniziato a confrontarci su come, ma davvero sperimentandolo, perché la cosa più affascinante di Marco, che è il più grande regista italiano, con numerose lunghezze, non me ne vogliano gli altri, insomma è un dato di fatto, è realtà, e uno dei più grandi registi mondiali, è che Marco ha un'umiltà, ma non l'umiltà di chi vuole fare la persona umile, ma l'umiltà di un grande artista che scopre le cose, che si dà il tempo di scoprire le cose mentre lavora alle sue opere. Naturalmente arriva con tante idee, con tante immagini, con un laboratorio già molto pieno, ma la cosa sorprendente è che vuole vedere cosa succede lì, vuole vedere cosa galleggia, vuole sorprendersi di tante cose, e in questo instaura un lavoro con gli attori, lo dicevo adesso a Gabriel, che è il più rispettoso che io abbia mai trovato in qualsiasi regista italiano. Nel senso proprio un rispetto autentico per il lavoro dell'attore, che è una cosa che mi commuove moltissimo, perché il rapporto tra regista e attore non è sempre un rapporto felice, diciamo al di là di quella grande percentuale di registi che detestano profondamente gli attori, che non li sopportano, ma questo non toglie il fatto che abbiano fatto film straordinari che sono rimasti nella storia del cinema, ma hanno sempre sentito gli attori come un impaccio, come delle pedine che dovevano essere manovrate. Poi c'è una categoria di registi che instaura un finto rapporto di complicità sul set totalmente strumentale, perché bisogna creare un buon clima, poi finite le riprese ci si torna a guardare in un altro modo. E poi ci sono pochissimi registi e Marco per me su questo è un esempio che hanno un rispetto, per cui è veramente molto bello lavorare con Marco, non solo perché è questo regista straordinario, questo patrimonio del cinema mondiale, oltre che di Bobbio, ma il fatto di poter lavorare in questo modo. E allora, e davvero chiudo, abbiamo iniziato a lavorare come si lavora con gli artigiani, abbiamo fatto delle lunghe prove trucco, lunghissime, passando anche per tutte le possibilità che oggi offrono i trucchi più avanzati, cosiddetti prostetici, cioè quegli strumenti che adesso danno la possibilità davvero di fare cose incredibili a teatro dal punto di vista della trasformazione. Le abbiamo provate perché avevamo voglia di sperimentare questo, per poi concludere una settimana, dieci giorni, prima dell'inizio delle riprese che non avevamo bisogno di quasi nulla. Perché, e questo è un'altra cosa che mi è molto, cioè su cui ho trovato grande sintonia con Marco, volevamo tutti e due che ci fosse spazio per l'evocazione di una figura storica realmente esistita, quindi un'evocazione che avesse anche, così come tutte le evocazioni fantasmatiche, anche una somiglianza, ma non doveva essere una somiglianza costruita a tavolino, qui facciamo il naso, qui facciamo le cose, doveva essere appunto un'evocazione, un po' come quando le figure ci appaiono nei sogni e sono più vere del vero, però poi se le confronti con una fotografia vedi che ci sono tante cose che non collimano, ci fosse posto per l'evocazione e per l'attore, cioè il pubblico dovesse, questo era quello che ci eravamo proposti, in qualche modo empatizzare con tutte e due, non soltanto naturalmente con il protagonista del racconto e della storia con cui bisogna entrare in sintonia, ma anche con il lavoro di artigianato che ciascuno di noi stava facendo e quindi abbiamo fatto delle piccole cose, ho chiesto una piccola calotta che mi alzasse la stempiatura, abbiamo usato una parrucca, ma il volto è il mio volto, che poi riguardandolo anche per me è abbastanza impressionante, nel senso che sembra che ci sia un lavoro, chissà quale lavoro di trucco, senza nulla togliere i truccatori e i parrucchieri che sono fenomenali, ma abbiamo lavorato veramente con dei piccoli segni e poi tutto il resto abbiamo cercato di farlo giorno per giorno su una materia su cui potremmo passare diciamo mesi interia a parlare, perché è una materia che ha cambiato, diciamo, è un punto di svolta della storia d'Italia e quindi non solo dal punto di vista storico, ma dal punto di vista proprio della chiamata una chiamata di responsabilità a una memoria, cioè quanto di quello che stiamo vivendo ogni giorno oggi è comprensibile se tagliamo i fili con la nostra storia, cioè se ci dimentichiamo di questa storia, se ci dimentichiamo di tante altre storie, come possiamo capire quello che sta succedendo oggi, ecco a partire da questa storia purtroppo si capiscono molte cose su come siamo arrivati a questo presente, a questa specie di maionese impazzita in cui diciamo tutti fatichiamo a raccapezzarci, ma quello è un capitolo fondamentale. Grazie. Sulla cosa dell'evocazione però appunto dovrei parlare di me quindi non ne parlo un giorno sono stato sul set non sapevo che tu eri sul set quel giorno ma questo non ve lo racconto perché è veramente una cosa così banale importante ma riguarda me quindi credo sia veramente molto poco interessante. Daniela Marra e Gabriele Montesi mentre come telespettatori o semplicemente persone che sono andate a guardare perché magari all'epoca erano troppo piccole non erano nati le figure pubbliche di Cossiga e di Moro erano decisamente familiari nel caso invece dei vostri personaggi quando le cose sono accadute quando ci sono stati gli arresti li abbiamo visti qua e là li abbiamo visti in un programma televisivo fatto da Zavoli se non ricordo male e quindi il vostro il vostro lavoro perché il problema credo in questa necessità di evocazione e per la figura di Moro e per la figura di Cossiga però si lavorava su un territorio su una enciclopedia visiva chiamiamola così comune allo spettatore per voi invece era stato tutto un altro processo immagino sì sì effettivamente quel che della faranda io ho più trovato per ovvi motivi erano interviste molto più tarde degli ultimi anni o comunque quasi tutte relative al periodo successivo alla sua insomma alla fine della sua pena e quindi è stata ho potuto farmi un'idea attraverso queste interviste alcuni audio dei processi ovviamente inizialmente sapevo solamente che era la postina delle Brigate Rosse così è stata nominata e poi di grande aiuto è stato il libro che è stato utilizzato anche da Marco e dagli sceneggiatori nell'anno della tigre di Silvana Mazzucco che in cui ci sono proprio degli interventi di pugno diretto della faranda su alcune vicende quindi il suo punto di vista diretto a parte questo diciamo che è tutta una documentazione che si trova c'è stata una prima iniziale indicazione fondamentale di Marco abbiamo fatto un primo incontro conoscitivo e non sapevo quale fosse il personaggio che stava cercando mi ha parlato di Adriana Farande mi ha detto subito qualcosa che rivela il suo dramma chiave Marco e quello è stato veramente il centro di tutta la creazione poi del personaggio infatti poi sul set Marco è anche un regista che non dice moltissimo agli attori ma dà veramente delle chiavi molto lucide e molto precise che ti permettono poi di essere anche libero dentro quello che è la sceneggiatura e quindi lui mi parlò di cosa voleva esattamente raccontare di questa donna che è esattamente questo contrasto questo conflitto interiore che va acuendosi nell'andare avanti della storia e che parte da un nucleo fondamentale che è quello della rinuncia al mondo di amore di di valori familiari di amore per la propria bambina per dover alimentare un odio che fosse necessario e funzionale alla lotta armata e quindi proprio uno spostamento di valori un po' quello che tanti brigatisti poi effettivamente hanno fatto cioè di rinuncia alla propria identità individuale per andare incontro a una identità collettiva che si radicalizza poi nell'ideologia però ecco il dramma fondamentale il nucleo il cuore è veramente questo contrasto costante tra rinuncia all'amore necessità di odio ma al contempo l'amore che ritorna e quindi poi l'acuirsi di questo conflitto interiore ancora di più quando si rende conto che l'assassinio dell'onorevole Moro è completamente inutile e quindi un fallimento anche in relazione alla 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 storia d'amore politica condivisa col suo compagno e quindi è un'acuirsi sempre di più di conflitti che sin da subito animano questa questo personaggio e questo punto di vista di Marco poi è stato la chiave di tutto che insieme appunto alla documentazione e ovviamente alla fiducia che poi hai nella scrittura e nel montaggio si è costruito così grazie sì beh fondamentalmente io di questa diciamo di questo periodo nero italiano storico non ne sapevo granché fondamentalmente e cioè si sapeva più o meno qualcosa però non è che si studia in maniera così approfondita nelle scuole e quindi per me è stata una prima un'opportunità una presa di coscienza fondamentalmente e da ciò non sapevo realmente cosa potevo dare di vero e di vita al testo e alla figura quella di Moruzzi fondamentalmente quando lessi la sceneggiatura la lessi sembrava quasi una una ricostruzione dei fatti in maniera molto dettagliata anche con delle licenze di finzione fondamentalmente ma l'ho presa come se fosse una verità e sono andato verso alla ricerca di altre verità cercando di aprire delle pentole e trovare e sottolineare così degli elementi dargli luce per poi approfondirli anche in qualche modo suonarli e vedere cosa generava cosa generava mettendoli insieme che grammatica poteva tirarne fuori fondamentalmente su questo per me l'elemento dell'ascolto che ho fatto con i processi per me sono stati fondamentali perché al di là della voce che per me era un fatto l'unico fatto è anche degli scritti dei vari libri che ci ha fornito Valerio Morucci personali dove io potevo banalmente così conoscere la sua persona però fondamentalmente volevo in qualche modo ecco evocare quello che non non esisteva e allora ho in qualche modo dato così attenzione cercando di trovare una qualcosa che andava oltre a quello che c'era e sono riuscito così a giocare con questi elementi per poi trovare una verticalità e riuscivo poi in qualche modo metterli in situazione con Daniele e con Marco il rapporto con Marco Bellocchio per me è stato un onore poter lavorare con lui e allo stesso tempo anche per me non mi sentivo proprio all'altezza di poter fare un ruolo del genere in una serie così e lavorare con lui però vedere come diceva anche Fabrizio una persona così grande che riesce a mettersi da parte anche con un attore così giovane e allo stesso tempo anche inesperto se si vuole considerare per me è stato un grande insegnamento di vita e che vi porterò per sempre e da lì sto provando a metterlo in atto cioè quello di mettere da parte se stessi davanti all'amore e l'odio di quello che uno vuole fare con tutto se stesso e quindi per questo ringrazio per sempre perché non capita spesso anche dai racconti che Fabrizio mi stava dicendo poco fa perché comunque l'esperienza in qualche modo va sempre ascoltata e niente vabbè penso di aver detto tutto grazie grazie Gabriel Fausto Fausto l'altra sera ci hai raccontato molte cose su questa esperienza dal dal dimagrimento a cose molto più intelligenti sofisticate e importanti vuoi aggiungere ancora qualcosa vuoi arricchire raccontarci dell'altro oltre a quello che ci hai ci hai raccontato hai già condiviso con noi ma adesso Cossiga nelle puntate successive cioè in quelle di stasera e nella successiva continua diciamo quasi una discesa agli inferi quindi forse anche domani possiamo parlarne in maniera più approfondita sicuramente quello che già dicevo l'altra volta di di questo viaggio veramente in bilico tra tra la realtà e e la finzione e l'immaginazione il percorso drammaturgico già in sceneggiatura di di questo Cossiga della sceneggiatura è molto preciso poi non voglio come dire dire troppo perché forse è meglio parlarne domani domani dopo che avrete visto le puntate allora chi vuole partecipare alla nostra conversazione avete la possibilità di avere questo cast non indifferente di fronte a voi vedo un braccio alzato laggiù vado si sente ok buonasera buonasera a tutti avrei una domanda per Marra e Montesi dunque la loro la puntata che vi vede protagonisti è diciamo la prima che esce fuori dal palazzo diciamo si porta più nella nella quotidianità se vogliamo dire più immersiva esplora più ambienti e diciamo mostra quasi una quotidianità in cui si respira il clima diciamo che si doveva respirare in quegli anni la mia domanda era se questa dimensione di immersività nell'ambiente fosse un qualcosa che appunto vi ha presente e l'avete notata diciamo favorita e come ci si è lavorato se c'è stata in fase di di recitazione ecco anche in fase di lavoro con 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 bell'occhio grazie sì c'è stata io ho proprio in mente un momento preciso in cui è avvenuta questa in cui mi sono resa conto che stavo mi stavo avvicinando forse in qualche modo a quella situazione a quella atmosfera generale che ci poteva essere a Roma a parte moltissime persone me l'avevano raccontata insomma però il momento in cui davvero ho sentito ho avuto questa sensazione è stato quando per la prima volta abbiamo girato in esterni noi abbiamo fatto le prime due settimane in cui abbiamo girato in interni le due case quella iniziale e poi quella durante i 55 giorni e quando poi siamo andati dopo due settimane per la prima volta all'esterno era una via di Trastevere quella del bar dove poi la Faranna entra e vede era con un lavoro di scenografia di Castolina che è bravissimo aveva tappezzato i muri di scritte manifesti di qualsiasi orientamento scritte sui muri volantini e queste scritte le ho lette mi ci sono soffermate dovevo camminare lì in mezzo e quello è stato il momento in cui per la prima volta ho ma anche dal contenuto delle varie scritte dalle grafiche ho detto beh se era così insomma quello era come una riproduzione di un documento erano era quella strada e quello è stato un momento importantissimo che effettivamente rispetto all'atmosfera che insomma mi sono portata dietro e poi un'altra cosa molto bella durante una scena sull'autobus c'era una signora che faceva una figurazione che durante tutti i vari giri di autobus che facevamo per rimetterci in posizione e continuare su quell'autobus vestiti in quel modo chiacchierando mi ha iniziato a raccontare quegli anni lei era giovane insomma mi ha detto guarda eravamo tutti in conflitto costante in tensione costante ma al contempo eravamo tutti insieme questo senso di collettività qualsiasi fosse la tua opinione di varie collettività che agivano insieme seppur ovviamente in un clima molto tensivo e anche violento è qualcosa che secondo me costituisce anche un certo secondo me anche fascino da parte nostra che invece viviamo nell'individualismo cioè in una società completamente individualista quindi quello è stato un momento importante hai fatto una bella domanda io non so se riesco a rispondere in realtà in maniera molto precisa però mi fa piacere ricordare un momento che è accaduto e che ricordo sempre con grande entusiasmo e amore che c'era una scena del trasbordo del corpo con mi sembra Casimirri e Moretti no c'erano Casimirri c'erano Moretti e c'erano io c'era il passaggio dell'auto che poi Morucci portava cioè io portavo la macchina via Chetani in quel momento lì mi ricordo c'era Marco Bellocchio che a un certo punto vedo che in fretta e furia chiama Emiliano l'operatore e posizionava la macchina in un punto dove in realtà non era organizzata così la scena perché l'avevano già più o meno impostata e mi fa no metti qui la macchina appunto da là vai a un certo punto io guardai questa situazione mi avvicinai a lui e feci scusa maestro ma ma questa inquadratura ma lei l'ha pensata e lui fa ma vabbè su motore svagò in una maniera fantasmagorica bellissima poi però aveva puntato la macchina su questa piramide questa piramide che sta a Roma e lì in quel momento cioè io vedivo che qualcosa c'era stava accadendo così e io stavo lì e a un certo punto io ho fatto questa domanda a lui vedo che qualcosa c'è stata una triangolazione c'è stata e a un certo punto mi metto in auto e fa direttore della fotografia di Giacomo mi fa passare un fascio di luce sugli occhi come se arrivasse da questa parte da sinistra così come se fosse poi quella soggettiva di Morucci come se un fascio di luce che arrivasse che il sole batteva dalla piramide arrivasse a me e niente fu questo un momento che in qualche modo mi fece rapprividire anche quando il cinema si manifesta e questo mi è piaciuto tanto non so se tu ho risposto però mi faceva ricordarlo grazie è da qualche parte il microfono sì mi pare sì prego ah no ce l'hai tu allora come l'ho detto mi sembrava che fosse arrivato fosse arrivato a te Fabrizio quali sono stati la domanda è molto stupida ti chiedo scusa però mi interessa stare sul set soprattutto stare quali sono stati i momenti più complicati da quello che ci hai detto si capisce di come tu hai studiato a fondo quella storia che è una storia politica ma anche la storia di un essere umano naturalmente poi quando hai lavorato per la serie quali sono stati i momenti più più complicati secondo te se ci sono stati naturalmente ma guarda i momenti più complicati per me sono sempre i primi giorni nel senso che i primi giorni si sperimenta per la prima volta qualcosa un'ipotesi di personaggio che che significa come si muove come parla come respira come insomma così l'invenzione di di un altro da te che però deve risultare vero autentico credibile ecco per me i primi giorni di set sono e anche su questo set sono i più difficili perché sai a teatro tu hai una risposta immediata a quello che fai al cinema depositi queste piccole tesserine il pubblico non c'è ma c'è perché c'è una troupe c'è l'operatore di macchina che è quello che per la prima volta ti vede c'è il fonico che è quello che per la prima volta ti ascolta naturalmente insieme a Marco insieme al regista per cui c'è una strana alchimia e io ho girato il primo giorno la fine del primo episodio cioè moro dentro la cassa in quella scena che si avvia i titoli di coda del primo episodio quindi una scena brevissima senza semibuia in cui sono riverso nella cassa in cui appunto il direttore della fotografia aveva illuminato questo piccolo taglio di occhi simulando la luce che entrava in questi buchi della cassa il secondo giorno ho girato la scena all'università cioè quella scena in cui ci sono gli studenti che interrompono alla lezione e il terzo giorno adesso per chi ha visto il film sa di cosa parlo per chi non l'ha visto lo capirà domani sera la scena più diciamo non so dire se più complicata comunque di di maggior peso cioè la grande confessione finale che c'è nell'ultima puntata su cui appunto adesso non non entro nei dettagli per non levare a chi la vedrà domani la sorpresa ecco si è partito da un frammento piccolissimo da una scena che aveva un arco quella dell'università a un lungo monologo in primissimo piano su cui c'è stato anche un lavoro di grande confronto con marco sulla scrittura perché utilizzavamo tanti testi che io avevo utilizzato in teatro quindi ci siamo confrontati molto abbiamo anche integrato tante cose pochi minuti prima del ciak quello per me è stato il momento più più delicato perché tu dici ma sto facendo qualcosa che è credibile non è credibile è troppo è troppo poco per me quelli sono i giorni più delicati sul resto davvero c'è un clima di tale concentrazione e di tale serenità sul set con Marco che non ricordo momenti come dire in cui ci siamo incagliati su una scena o in cui ci sono state discussioni o insomma non ho aneddoti da 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 raccontare sulle difficoltà ma questa sensazione dei primi giorni in cui ci si chiede ma questo personaggio poi che verrà visto ha un'esistenza ha un'anima o è semplicemente un attore che sta facendo cercando di fare nel migliore dei modi il suo lavoro ecco per me quello in questo set come in tanti altri il momento più difficile è quello lo chiedevo l'ho chiesto due sere fa a Fausto Fausto Russo Alessi e quindi gli ho chiesto una cosa poi una cosa che si pone sempre ed è anche una domanda che non si fa sempre agli attori o alle attrici ma in questo caso tutte e due avete fatto dei personaggi davvero molto impegnativi in una lavorazione molto lunga e quindi a Fausto ho chiesto lo chiedo anche a te se poi questo personaggio è arrivato anche a casa nel momento in cui finiva mi sembra di aver saputo qualcosa qualche mese fa da una persona che ti conosce bene però volevo avere il tuo punto di vista perché credo non sia facile per quanto sia il vostro lavoro allora su questo posso darvi più soddisfazione perché c'è una ricca aneddotica diciamo no nel senso che sì poi uno non vuole farla più grossa di quello che è entrare nel personaggio come si entra come si esce è indubbio che per un certo periodo di tempo sta in compagnia con un'altra persona cioè vivi e ti addormenti non è che tu ti levi il costume ti levi ti strucchi insomma amici come prima qualche cosa ti resta addosso poi al netto del fatto che ogni attore ogni attrice ogni interprete ha una modalità diversa di avvicinarsi di restare in contatto con quello che fa io per un periodo così lungo non riuscivo a staccare facilmente la spina ma anche adesso diciamo faccio un po' difficoltà a staccare la spina ma in quel periodo moltissimo io generalmente nonostante mi costi molto privarmi degli affetti familiari quando uno gira un film fuori casa in un'altra città lontano eccetera confesso ma lo sanno i miei familiari che io preferisco nel senso che mi sento di dare meno fastidio nel senso che e allo stesso tempo ho meno sollecitazioni cioè quando tu finisci una giornata di set molto impegnativa il giorno dopo devi affrontare delle scene particolarmente complicate comunque tornare a casa parlare con le figlie ascoltare i loro problemi cioè uscire completamente da quel personaggio e ritornare alla realtà ha un piccolo costo che poi è bellissimo farlo e quindi diciamo sono stato credo sopportato o mal sopportato o ben sopportato o simpaticamente sopportato da Sonia ma dalle mie figlie che non ne potevano più insomma non ne potevano più soprattutto le mie figlie Sonia ovviamente condividendo lo stesso lavoro era un po' più comprensiva anche se ogni tanto mi suonava il campanello diceva basta stop le mie figlie che sono adolescenti molto più brutali dicevano basta papà non è possibile ma io non me ne accorgevo cioè loro ecco l'esempio quello che mi dicevano continuamente smettila di parlare come Moro e io dicevo ma scusa ma io sto cioè ho chiesto se mi passi la Coca Cola sì no ma non è la tua voce papà smettila smettila di recitare che poi è bruttissimo l'attore quando gli dice smettila di recitare subito quindi sto recitando allora ho recitato anche stamattina allora ero falso eccetera no loro volevano dire capito loro segnalavano amorevolmente che si erano rotte le scatole di non avere più a che fare con me ma di avere a che fare con una persona molto pacata gentile ma ogni tanto scappava anche un po' e no e un'altra cosa ecco questa sì un'altra cosa allora voi avete già visto sì la puntata del Papa in cui c'è il sogno ad occhi aperti di Paolo VI spero che non sia andata via si sia interrotta la proiezione su quella scena in cui il Papa vede a occhi aperti questa trasfigurazione di Moro che porta la croce Marco mi ha chiamato la sera prima e mi ha detto non ti preoccupare la croce adesso distacchiamoci dalla voce di Marco mi ha detto molto gentilmente non ti preoccupare la croce sarà molto grande ma naturalmente diremo allo scenografo di farti fare una croce leggera cioè useremo un legno eccetera naturalmente io ho detto Marco non assolutamente no cioè non la croce deve essere la croce perché per me è molto più complicato avere una croce che non pesa niente e far finta che la croce pesi quindi fammi fare la croce che serve e quello è naturalmente ma ah perfetto benissimo mi ha preso in parola è arrivata una croce insomma che avete visto più o meno anche se in penombra di una certa consistenza la scena per quanto come succede al cinema siano dei frammenti è durata sei ore soprattutto l'ultimo ciac di notte su un acciottolato di cinecittà di una strada romana quindi dove i piedi potevi prendere una storta ogni tre secondi dovendoti inginocchiare per fare la stazione della via Crucis l'ultima scena prevedeva che io uscissi per qualche metro in campo lungo naturalmente Marco che scopre davvero le inquadrature mentre le fa è rimasto totalmente affascinato da questo corpo che scompariva che questa cosa che doveva durare tre metri cinque metri dieci metri settanta metri cento metri e io alla fine sono morto e sono dovuto andare da un osteopata perché ci ho avuto un insomma un incriccamento fortunatamente venivo da un film in cui avevo invece una grossa preparazione completamente opposto che si ha alla belva in cui avevo sviluppato una muscolatura importante che però appunto poi avevo dovuto svuotare per Moro perché Moro non poteva essere muscoloso allora vado dall'osteopata ora mi hai chiamato l'aneddoto e l'aneddoto sia andavo dall'osteopata e l'osteopata io ho bussato al campanello lui ha aperto la porta lui ha detto che hai fatto ho detto no guarda c'è un piccolo uno stra no no ma che hai fatto a tutto il corpo ho detto che ho fatto a tutto il corpo dice no tu non scusa vieni un attimo e mi inizia a guardare dice guarda che la tua l'angolatura della tua schiena e del tuo collo è completamente piano piano cosa stai facendo Moro piano e io non capivo perché ho detto ma che ho fatto cioè sì sto un po' curvo col collo effettivamente cioè Moro ha sempre un po' la testina reclinata finché un giorno e io quindi l'ho presa un po' sotto gamba questa cosa mi sembrava un po' un'esagerazione dell'osteopata ho detto scusa raddrizzami la schiena basta non ho queste due cose lui dice sì sì io adesso ti raddrizzo questa cosa ma stai attento perché la stai prendendo un po' troppo sul serio questa cosa poi un giorno girando nella chiesa il giorno che sei venuto tu io con la coda dell'occhio ho visto la mia ombra proiettata sulla parete della chiesa e ho chiesto subito e mi pare o al scenografo o al costo qualcuno dei costumi ho detto scusa puoi fare quella foto puoi fare quella foto io non mi muovo puoi fare quella foto lì ho visto la foto e ho visto effettivamente quello di cui mi parlava l'osteopata cioè io avevo era una sagoma scura perché era solo l'ombra e l'ombra della mia testa del mio collo si era totalmente moroteizzata e ho capito che cosa mi voleva dire quindi ecco si entra si esce qualche volta si esce con un po' più di difficoltà diciamo allora grazie grazie per questi racconti Fabrizio io direi che possiamo intanto domani sera riprendiamo la nostra conversazione ci rivediamo con gli stessi ospiti naturalmente che io ringrazio davvero molto ci sono i nostri omaggi che sono la litografia che ogni anno è sempre diversa Marco Bellocchio prepara per chi viene a trovarci c'è anche un buon vermut per brindare vi aspetto domani sera tutti quanti anche di più grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti